No, ma no, sono finito anche nel telegiornale australiano, veri, ma no, no, cioè, capite che dopo 40 anni di onorata carriera sono diventato l'idolo dei trampiani di due continenti, ormai, no, perché pensano che io tifi per il suprematismo bianco, no, anche gli aborigini, anche degli aborigini degli outback australiano. Se penso a tutte le sere passate qui a sforzarmi di essere sinceramente democratico, moderatamente progressista, disgraziatamente di sinistra, alla mia veneranda età è un fallimento totale. Il video di me, cazzo, con la parrucchetta di Biden ha avuto milioni di visualizzazioni sui siti americani, ma nemmeno Biden, il vero, le ha mai avute. Ora, mi rivolgo agli amici trampiani di oltrooceano, mi rivolgo a voi. Sì, anche a te, anche a te con le corna, che sicuramente ci starei seguendo dal carcere federale di Fenix. Io non faccio campagne elettorali, io cerco di fare satira, o meglio, ci provo, eh, ragazzi, cioè, me la prendo col potere sempre, always, anche quando non cade dalle scalette degli aerei. Sì, infatti, ora voglio rivolgere agli amici democratici e dargli l'opportunità di far girare un video che ho fatto nel 2016, prima dell'elezione di Donald Trump. Sì, infatti, ora voglio rivolgere agli amici.